Pur apprezzando le poste portate a casa, dalla lotta al caro Bolletti all'educativa di strada, le opposizioni attaccano, segnalando quelli che a loro giudizio sono i grandi assenti dal bilancio comunale appena approvato. Acqua Marina, Galleria e Piazza Foraggi, il tram, dove i lavori non procedono o procedono molto lentamente, ma anche su opere di ogni giorno, i marciapiedi disastati, la manutenzione delle aree gioco, il riconoscimento di gratificazioni per i lavoratori dei musei. Sul rione di Altura, dopo aver incontrato diverse volte i residenti, troviamo nel bilancio assai poco. Sul rione dei San Luigi, continua a essere un rione dormitorio. È un bilancio ordinario in tempi straordinari, manca cioè la visione di futuro, mancano gli investimenti per tenere i nostri giovani sul territorio, per creare nuovi posti di lavoro, per attrarre gli investitori in Portovecchio, ad esempio. E poi manca la visione ambientale. In questo bilancio non c'è nulla per adeguare la nostra città alle sfide che l'ambiente ci sta rivolgendo. E poi ancora le famiglie e le persone più in difficoltà. Grande assente è proprio il rischio idrogeologico e quindi quello che è stato richiesto da noi è stato un progetto che vada a tutelare il centro della città. Poi mancano i giovani. I giovani stanno andando via dal bilancio. Si evince che abbiamo un'altissima immigrazione di giovani. Dobbiamo recuperare. La nostra proposta è stata quella di dire andiamo ad aiutare i giovani a restare in città con un aiuto proprio per l'abitazione.